benvenuti nelle nuove destinazioni di royal caribbean dubai e il golfo persico bellezze naturali storia e moderne meraviglie architettoniche sapranno catturare la tua immaginazione con una crociera royal caribbean potrai vivere una vacanza da mille una notte esplora il fugirà e le sue bellezze tramare monti abu dhabi spettacolare oasi nel deserto dubai il suo splendore tecnologico e se cerchi esperienze nuove puoi persino sciare nel deserto perché no ma con una crociera a dubai in stile royal caribbean gli emirati arabi sono solo il punto di partenza farai scalo anche a mascah oman una delle città più antiche del medio oriente e potrai visitare il bahrain uno dei luoghi culturalmente più variegati al mondo con un'escursione o un pacchetto combinato royal caribbean esplorerai ancora più a fondo queste terre incantevoli con safari nel deserto tour sui cammelli escursioni al mare immersioni vivi ancora più a fondo la tua avventura in arabia con uno dei nostri pacchetti combinati pre e post crociera un'esperienza che unisce mare e terra in compagnia di guide qualificate con tour e pernottamenti nelle città nel deserto e avventure in jumbagi o in fuoristrada sei più interessato all'antichità alla modernità alla natura o a un cocktail di tutto questo in una crociera e con le escursioni royal caribbean troverai tanto per tutti in una delle destinazioni in più rapido sviluppo al mondo ma ancora relativamente inesplorata e non c'è modo migliore per conoscere questi luoghi misteriosi e affascinanti che nel comfort di una crociera royal caribbean